small talks small talks small talks small talks small talks small talks yes comunque siete poco stilosi pure sulla sigla madonna ovvio I'm Jefferson Grace salve lo stile due stili tre uno, due, tre scusa ma è due e mezzo due e mezzo ok stiamo iniziando benissimo stiamo iniziando benvenuti salve buonasera a tutti grazie per essere qui grazie a te super felice grazie per aver accettato questo invito so che siete rilassatissimi giusto? super tranquilli certo Alan si è fatto pure l'outfit prima sono qua la camicia allora io mi sono messo a tema sono lui vero? io mi sono messo a tema mentre loro si sono vestiti bene questa cosa va bene ok questa me la pagherete comunque bando alle ciance bando alle ciance e io inizierei se voi siete d'accordo d'accordo? d'accordo? d'accordo con la prima domanda non è vero la prima domanda è molto semplice vi chiedo semplicemente di siccome non mi va di presentare gli ospiti vi chiedo semplicemente presentatevi da soli cioè tipo ciao faccio questo sono questo no sono questo faccio questo e basta così dillo che ti pesa è anche più facile per me così vi presentate da soli non vi devo presentare io vai Alan facciamo iniziare Alan prima vai allora ciao a tutti buonasera o buongiorno ma magari lo ascoltano in un momento della giornata a caso buona giornata ciao a tutti ciao a tutti vai mi chiamo Alan che cos'è la street dance no allora io direi che possiamo tagliare questa parte vai presentati allora mi chiamo Alan Alan Mark Gunda madonna Mark Gunda guarda c'è pure Patron che è il cognome di mamma no vabbè dai lasciamo sta e guarda ti sistemo pure il microfono ok vai scusate non so capace ho 28 anni sono filippino ma sono nato a Roma e sono uno dei coreografi degli Hermes che salutiamo lì ma era bruttissimo e e niente che devo dire io faccio faccio il coreografo ballerino insegnante e mangio tanto mi piace mangio tanto non è vero sono a dieta sono a dieta e mi piace tanto cosa mangiare o ballare tutto 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 va bene Jeff ciao io sono Jeff Jefferson by Aborda Creus sempre non mi facili comunque devo dire a voi 26 anni nato nelle Filippine e mi sono trasferito qui in Italia 2008 e una delle coreografie degli Hermes ok vedi era facile alla fine cioè non era così complesso siamo ancora alla prima però eh vabbè dai ma saranno tutte più o meno così forse quanto fa 2 più 2 5 no no la domanda è sempre la stessa che cos'è la street dance quella è la domanda principale quella proprio c'è trauma trauma io prendo sempre il telefono perché ho le domande scritte sul telefono perché il foglio mi sembra un po' così quindi me le sono scritte sul telefono e la prima domanda reale è vorrei parlare del progetto Hermes potete suddividervi la risposta come vi pare piace la domanda è cos'è com'è nata l'idea e come si è sviluppato negli anni questo progetto perché non cioè da com'è partito fino a com'è adesso sicuramente c'è stata un'evoluzione quindi com'è com'è nata l'idea da chi è nata perché state avete deciso di fare questo progetto chi vuole iniziare dei due allora progetto Hermes il progetto Hermes nasce diciamo era nel 2019 allora la maggior parte delle dei ragazzi delle ragazze che abbiamo noi già ballavano con noi prima dicevamo 2017 Supergio 2018 poi il 2019 abbiamo deciso di creare questo questo gruppo non è non è un percorso formativo no è solo un gruppo dove abbiamo detto creiamo questa cosa qua per insegnare e trasmettere quello che siamo riusciti diciamo ad imparare io e Jeff negli anni che abbiamo studiato sia cioè nei percorsi che abbiamo fatto cioè la Bounce Factory e la Damned di Damned Dancer scusate e niente il 2019 appunto abbiamo creato questo gruppo dove erano più o meno una ventina di persone mi sa che se non mi sbaglio eravate partiti solo con i grandi giusto? sì all'inizio sì erano erano solo Hermes solo i grandi e abbiamo preso appunto questi ragazzi qua dall'età di col più piccolo nei tempi ne aveva forse 14 no anzi 13 12 però Andrew era cioè ce ne aveva 10 mamma mia ragazzi più piccolo madonna sì 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 più piccolo e fino a la maggior parte erano forse i 18 anni erano quelli più grandi ma erano 1 e 2 tutti gli altri c'erano 17 16 comunque in giù e all'inizio abbiamo abbiamo fatto appunto questo questo gruppo oltre a ad insegnare noi a fare anche dare un po' di esperienza ai nostri a provare comunque a fargli entrare diciamo nel mondo della danza italiana e diciamo sì abbiamo provato abbiamo iniziato il 2019 per poi il 2020 con il covid non ci siamo fermati però abbiamo per un paio di mesi abbiamo dovuto fare diciamo tutte le cose in sala cioè in sala fuori sala cioè tipo in un parcheggio quello ha influenzato un po' tutti sì 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 infatti è stato un po' un calare anche di persone perché giustamente la gente non poteva uscire i genitori avevano paura tutte queste cose qua però non ci siamo fermati abbiamo voluto comunque continuare e niente poi da là piano piano è cresciuto di tutto è cresciuto passiamo la parola a Jeff che magari continua il racconto il nome Hermes viene da da due gruppi che si chiamano Hermanos FM ecco perché Air l'abbiamo preso da Hermanos FM da Femmes cioè FM quindi l'abbiamo uniti è diventato Hermes ok erano due gruppi dei maschi e solo donne ok che gareggiavano contro nelle gare filippine poi alla fine l'abbiamo messo insieme perché era una mega crew tipo sì quindi da contro sono diventati insieme praticamente sì vabbè dal 2019 al 2024 un po' di roba l'avete fatta sì un po' di gare cioè abbiamo cominciato a fare le gare solo filippine poi piano piano abbiamo cominciato a fare gare italiane pure e la gara più grande che abbiamo fatto World of Dance ok vabbè ma non volevo arrivare a questo Andrea Alemanno non volevo arrivare a questo però sì la gara più grande che abbiamo fatto è World of Dance Italy e niente ok ok va bene va bene io vado avanti allora dai andiamo avanti con la seconda domanda allora ho deciso questa volta rispetto all'altra puntata di impostare le domande un po' a salto cioè non voglio parlare sempre dello stesso argomento e poi spostarmi quindi la seconda domanda che vi voglio fare è penso che una delle cose interessanti sia conoscere i coreografi perché molto spesso nel mondo della danza ci si conosce solo per quello che si fa in sala però in realtà quello che si fa in sala spessissimo dipende da chi siamo noi fuori dalla sala quindi per me è una domanda molto interessante che ho fatto anche alla scorsa insomma puntata ma è una di quelle che a me piace molto tenere che mi piacerebbe tenere anche sulle prossime è cosa fanno i coreografi quindi fuori dalla sala cioè quali sono gli interessi ma l'interesse può essere qualsiasi cosa anche per me l'interesse è andare a vedere i concerti e basta quindi perché per me tutto è formazione tutto quello che succede fuori viene portato all'interno della sala per poi creare qualcosa quindi mi faceva piacere sapere anche in che modo voi cioè che persone siete al di fuori no dell'Allen coreografo e ballerino di Jeff coreografo e ballerino faccio magari iniziare prima Jeff visto che prima hai iniziato Allen tanto alla fine è uguale più o meno ok allora io oltre a fare il ballerino faccio pure l'acconciatore ok e vado fuori a Roma anche per fare so che lavori un sacco sì e mi chiamano fuori Roma ma però ho iniziato a lavorare qui a Roma come acconciatore ok sì oltre a fare il ballerino e mi piace un botto pure fare i vestiti infatti prima di diventare un ballerino quando ci stavano ancora delle dei concorsi di bellezza tipo organizzare dei filippini facevo pure dei costumi per queste candidate tipo ok e mi piace molto fare fashion design tipo fighissimo tra l'altro questo secondo me va anche ad avvalorare quello che ho detto all'inizio cioè il fatto che sono degli interessi che non sono direttamente collegati alla danza ma che sicuramente tu puoi porti all'interno del mondo della danza una volta che sei in sala credo almeno sì sì poi vabbè oltre quello tempo libero gioco a palavolo sì hai anche del tempo libero sì diciamo se riesco incastrare sì mi serve che mi devo allenare sì se faccio quello e niente vabbè mi sembra abbastanza vuoi fare qualcos'altro non lo so tutto fare ok allen io triste quello fa tante cose io non faccio niente ce l'ho ce l'ho io non faccio un cazzo non faccio niente proprio cioè nel senso non è che non faccio niente più o meno cioè con gli orari libri miei io diciamo che preferisco andare in giro stare un po' con amici perché sì la maggior parte degli amici che ho comunque stanno diciamo in questa scuola in questo ambito però anche degli amici anche dei parenti questa scuola aspetta traduco perché non tutti ci stanno vedendo dallo studio e comunque dallo studio non si vede dove siamo perché lo studio dove registriamo si trova all'interno di L Studio scusate il gioco di parole però si chiama così la scuola che ci ospita c'è anche un logo salutiamo la nostra direttrice Eleonora Cipriano salve ciao Ele e appunto e niente vado vado in giro diciamo sto lì a giocare a carte a bowling a biliardo ti riporto perdonami non ti volevo interrompere ti riporto una cosa che c'è stata nella prima puntata quando ho fatto questa domanda nella prima puntata abbiamo intervistato Irma e Luca Paoloni alla domanda che cosa fate al di fuori Irma ha dato una risposta che per me è stata stupenda anche il non fare niente è una cosa fondamentale perché ti ricarica perché il tipo di lavoro creativo che vai a fare in sala è un qualcosa che ha bisogno proprio di momenti di stacco perché sei talmente sottoposto a magari stress oppure per lavori o per gare concorsi qualsiasi cosa uno debba fare che ha proprio avere la possibilità di staccare il cervello e di riuscire a non fare niente penso che sia che sembra quasi strano dice non faccio niente mamma mia non fai niente no invece è una cosa fondamentale perché questo tipo di lavoro ti porta comunque a dei picchi di stress molto molto alti vero quindi anche quello anche semplicemente ascoltare musica o leggere un libro penso che siano delle cose fondamentali da fare proprio per sotto questo punto di vista quindi sì sì no ma infatti per me appunto quel non fare niente lo prendo anche come riposo perché cioè come hai detto te in questo in questo ambito in questo lavoro ci sono veramente dei mesi dove tu devi fare un sacco di cose dove tipo dei progetti arrivano sempre tutto di seguito e quindi non hai un momento di pausa quindi appena trovi quel giorno dove appunto non fai tra virgolette niente è come se fosse un respiro per cioè un io non so come si dice per far immergerti dentro al lavoro questo ti dico io faccio una fatica a non fare niente ragazzi però è vero sì sì infatti non fare niente è proprio comunque faccio altro che non faccio niente certo perché rimanere fermo allena a casa io quando arrivo a casa ma mamma mia però 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 fino all'anno scorso oltre alla danza lavoravo anche in albergo facevo le receptionist facevo sia il notturno che la mattina che il pomeriggio cioè praticamente la notte lavoravi e il giorno stavi in sala abbiamo iniziato a ballare così sì sì pure lui all'inizio faceva lavoravamo per ballare sì sì che difficoltà e quando dormivate? mai in sala in sala mentre gli altri provavano beh buona mamma mia però diciamo che pure quello in realtà mi è servito nella danza nel senso facendo il receptionist diciamo con la parte organizzativa e tutte queste cose qua sono riuscito a portare sia quella cosa lì anche nella danza nel senso comunque per creare e mantenere un gruppo non è che serve solo un coreografo servono anche persone che verità incredibile sì servono anche persone dove devi organizzare questo dove devi stare dietro a tutti dove chi ne so se c'è una gara oppure anche una gara tipo fuori fuori Roma fuori Italia cioè l'organizzazione serve tantissimo infatti diciamo che meno male che quello che ho imparato lì sono riuscito pure a portarlo nel nostro gruppo beh fondamentalmente quello che che vi dicevano è il fatto che quello che fai fuori poi lo riporti all'interno del mondo della danza in questo caso non stiamo parlando di parte creativa diretta quindi parte della sala ma mantenere un gruppo spostare 20 persone 30 persone organizzare tutto quanto non è una roba per niente facile quindi capisco perfettamente la difficoltà va bene va bene la quarta domanda poi facciamo un piccolo break giuro siamo già la quarta comunque volevo dirvi questa cosa cioè comunque siamo vabbè la prima rappresentatevi allora la quarta domanda in realtà è una curiosità che allora io frequento il mondo la comunità filippina da tantissimi anni per vari motivi una cosa che mi ha sempre affascinato della comunità filippina è il motivo per cui io ho avuto piacere oltre a invitarvi perché stimo tantissimo la parte creativa quindi ciò che fate a livello artistico anche il fatto della comunità filippina per me è affascinante a livelli altissimi quindi mi piacerebbe in qualche modo portare questa cosa anche al di fuori no? e nella comunità filippina ciò che ho notato è che c'è un quantità tipo di arte incredibile cioè quello che ho notato io poi correggetemi se sbaglio che ballano tutti e cantano tutti ma cioè da dove parte questa cosa e tra l'altro sono tutti incredibili cioè non è che dici vabbè non lo sanno fare moltissimi lo sanno fare anche a livelli molto alti sia cantare che ballare cioè ma nasce da qualche cosa cioè nasce dalle Filippine nasce perché io non credo che sia una cosa un fenomeno che si restringe all'Italia cioè io penso che sia una cosa comunque internazionale questa quindi cioè come ve lo spiegate voi oppure magari sapete semplicemente la ragione quindi dici guarda è per questo motivo non lo so voi che ne pensate non sapete cioè no anche la risposta può essere anche non lo sappiamo per quale motivo tutti ballano e tutti cantano non lo so più cioè da me cioè non lo so però io ballo perché l'ho preso da mia madre che lei balla però vedi cioè tutto secondo me è tutto proprio connesso però non so da dove parte proprio cioè c'è un quantitativo di arte all'interno delle Filippine che è incredibile forse allora almeno io tipo a scuola io ho iniziato cioè mi madre e mi padre non credo che ballano se non lo sei tu dovresti saperlo però va bene è quello cioè quanto quanto mi risulta mi padre è zero mi madre forse forse mi nonna era molto un po' più brava però io diciamo ho iniziato a ballare a scuola perché la scuola nelle Filippine io ho studiato nelle Filippine per un paio di anni ok cioè mi sono fatto diciamo fino al quinto elementare e già dal primo elementare noi avevamo diciamo del già ci stavano delle gare interne non so come si dice però questa cosa ci sta pure in America o sbaglio? sì 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 e credo che l'abbiano presa da lì perché appunto noi noi Filippini cioè le Filippine hanno preso tante cose dall'America giustamente che siamo state colonizzate da loro per tanti anni e appunto già dentro scuola loro tra le classi ci sono appunto queste queste cioè competizioni sia di canto che di ballo dove ogni ogni classe doveva portare un pezzo cioè è sempre stato così già dal primo anno mio che avevo sei anni fino al quinto anno mio che stavo lì e si fa fino appunto fino all'università cioè non è una cosa solo da piccolo quindi credo che cominciando da lì giustamente su centomila studenti almeno diecimila escono che vogliono fare quello credo che sia per quello tra l'altro non lo so mi sembra anche una questione proprio di educare i ragazzi all'arte sì no ma noi ce ne stiamo un sacco cioè questa roba cioè il fatto di far ballare i ragazzi nelle scuole di fare le competizioni di ballo di canto cioè penso che sia una roba incredibilmente utile cioè educare i ragazzi all'arte è fondamentale sì probabilmente anche da questo cioè ma in realtà oltre a diciamo oltre a ballare e cantare tipo almeno io nella mia scuola dopo dopo le lezioni che noi fai finta iniziamo le lezioni dalle otto di mattina fino alle quattro di pomeriggio e dalle cinque di pomeriggio fino alle sette se non mi sbaglio c'erano proprio dei club dove tu potevi scegliere cosa fare tipo io un anno ho fatto quel club di scarabbeo ok sì 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 anche questo vagamente oddio io parlo un pochino per suonavi io sì suonavo tipo un drum però solo uno ok che nelle Filippine si chiamava drum and lyre dove i maschi appunto potevano scegliere se suonare o il drum quello uno ok oppure quello da tre oppure c'erano i simbal non so come si dice in italiano i piatti i piatti e invece poi le ragazze anche i maschi in realtà o comunque femmine che suonano il drum ci stavano c'erano questo lyre che è quello ting 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 che non so come questo è un xilofono no no xilofono sì ma com'è fatto è un triangolo no 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 è solo due sono tre no però c'è presente quello tipo il gioco dei bambini quello lungo così che sembra xilofono quello così solo che è tipo così grande ok ma è in verticale non è in orizzontale in verticale però le tasselle come si chiamano vabbè quelle cose così sono in orizzontale ok no non penso di averlo mai visto vabbè comunque già quello pure ci stava però figo con le maggiorette sì con le maggiorette pure non lo so secondo me dare questo tipo di educazione già dalla scuola è una roba molto molto utile da fare per i ragazzi sì sì educarli all'arte qualsiasi forma di arte dico non è che per forza deve essere la danza o la danza cioè educare i ragazzi all'arte penso che sia importantissimo e sicuramente come dicevi tu è una roba che viene anche un po' dal dall'America no dalla coalizzazione americana che è stata nella Filippina negli ultimi anni quindi sicuramente anche quello va bene mi sembra vedi un'ottima spiegazione alla fine non ho preso da sua mamma che non balla mi madre non credo che ballava va bene allora prima di passare avanti vorrei fare una cosa molto divertente almeno dovrebbe essere divertente quindi vediamo che cosa succede non so se avete notato che su questo tavolo c'è una scatolina nera ok che è dobbiamo pescare è piena di roba ci sono bigliettini allora il gioco è molto semplice a turno inizia Jeff peschiamo un bigliettino e lo leggiamo ad alta voce sul bigliettino c'è una battuta che dovrebbe fare ridere ok io non conosco quello che c'è scritto è stato fatto da gente esterna se chi legge ride o gli altri due ridono comunque chi ride perde un punto ok il primo che perde tre punti esce rimangono due chi perde tre punti esce e uno vince e chi vince vince il gioco che cosa volevi vincere scusa un po' di cibo allora veramente lo dovevate portare voi il cibo cioè la promessa era questa non mi avete portato un po' di adobbo niente allora prima di tutto comunque l'adobbo scusa lo devo dire questo qua lo devo dire per tutti l'adobbo è una delle cose più buone del mondo provate l'adobbo filippino che loro mi dovevano portare e non l'hanno fatto va bene questa me la segno comunque facciamo iniziare Jeff lo dico già io non so buono a legge a legge e con le battute italiane dai 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 serio eh vai dai ma non puoi già ridere una curiosità sul sonno anche gli oggetti dormono un esempio la roulette russa ok io questo è stato un po' difficile questa era difficile sì no perché meglio scherzi così una curiosità sul sonno Allen dorme questa non te la faccio contare come meno uno perché eri da solo ti sei autosacrificato allora vado eh non guardare scrissi patate su un foglio e la gente patate lesse madonna questo è difficilissimo ma questo questo era triste madonna era meglio quello di prima a sto punto vai 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 patate lesse cioè allora oddio vai non devi ridere però no sto ridendo se io mi nutro tu ti nutri egli si nutre perché Frank Sinatra ma il cantante è il ballerino ma io l'ho scritto questo ma abbiamo perso un punto a testa tre polli ma scusa ok basta oddio il ballerino ma che adesso ho detto cantante è cantante Frank Sinatra ma ti pare oddio mi sono confuso eh sì è per quello che abbiamo riso stavo a pensare a Frank Matano no vabbè però non te la devi spoilerare prima se no cerchi vai vai numero nove io pure no 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 vale 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 mi dispiace però vorrei spiegare perché prima quando ho visto il mio c'ha scritto 30 stavo pensando se leggere 30 poi ho detto beh forse non serve è riso mi dispiace ma è riso meno due vai 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 caro thai patata dai ragazzi se vinco questa non ci posso credere cioè state meno due meno due ce la faccio state meno due meno due no lo devi fare se no vai dai serio serio caro thai patatai pisellai sedanai passato di verdure aspetta che Allen non l'ha capito no no ho capito cioè ci sono arrivato dopo però aspetta Allen l'hai capito certo sei sicuro un po' quasi quasi due due uno no vabbè comunque come l'ha letto parata pronti pronti ce l'ho ce l'ho ce l'ho serio serio vai respiro peperoni peperoni da anni la birra preferita dai balbuzienti Allen non l'hai capita io no ma io come faccio a fare il gioco questi due si auto eliminano no raga auto eliminazione comunque io l'ho capito però è bellissima è bellissima peperoni dai purelli ho vinto no aspetta eccome no avete riso no perché quello faceva parte già di quello no avete riso 2 2 1 cioè 2 2 1 mi stai dicendo 2 2 1 comunque vabbè comunque non valerà cioè vabbè mi state rubando vabbè ok ok vai Allen serio ecco ma quando un vegano muore si reinverdura si reinverdura quando un vegano muore si reinverdura reinverdura perché normalmente si dice si reincarna no no questa siamo troppo stupidi no per chi l'ha scritto non è stato bravissimo dai aia 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 non so non so chi tu sia ma ma vai Jeff 8 meno a me me l'hai contato prima 9 numero 9 quindi 2 2 2 vabbè vai quindi siamo tutti a rischio eliminazione certo vai carini cani di bergamo e bergamaschi non vale ma io rido perché lui ride mo non potete dire niente cioè incredibile come ho fatto a vincere questa cosa io sono cioè non riesco mai a rimanere serio come ho fatto a perdere questa è la domanda pure io che sono serio si guarda serissimo proprio guarda ho capito ma la persona più seria del mondo frank sinatra mi ha fatto morire cantante frank sinatra il ballerino ballerino no pensavo fosse una battuta quando hai detto cantante io ho detto ballerino vabbè hai vinto tutto vabbè va facciamo finta che ritorniamo seri allora oh mio dio siamo nella seconda metà quindi abbiamo superato la prima metà se volete potete bere ho bevuto hai bevuto ho già bevuto va bene va bene allora la diciamo la prima domanda della seconda parte del podcast è non è una domanda in realtà è più non so vorrei parlare in qualche modo sempre per il discorso che io sono stato legato alla comunità filippina per tanti anni della comunità filippina che c'è a Roma cioè a Roma almeno che io sappia ma correggetemi sempre c'è la comunità filippina più grossa che c'è in Italia giusto anche a Milano forse c'è una comunità filippina però forse a Roma è più forse a Roma è più grande è più grande c'è un fortissimo legame tra la comunità filippina e il paese d'origine quindi le filippine e c'è una fortissima tradizione cioè quello che ho notato io è che i filippini tendono sempre a mantenere le tradizioni che vengono tramandate dal proprio paese e ci tengono tantissimo a questa cosa penso cioè il mio punto di vista è che sia una cosa estremamente bella questa e insomma volevo sapere anche il vostro parere a riguardo insomma come la vivete questa cosa anche se voi vivete da tantissimi anni in Italia vi sentite fortemente appartenenti alla comunità filippina perché comunque so che esistono un sacco di eventi che fate tra di voi c'è un sacco di cose molto molto belle appunto anche Jeff tu prima dicevi i concorsi di danza i concorsi anche di bellezza tutte queste cose così insomma volevo anche un parere un punto di vista interno perché comunque il punto di vista esterno è sempre diverso da chi in realtà fa realmente parte di questa comunità io non so se volete dire qualcosa al riguardo Jeff Allen fa segno a Jeff no questa cosa è molto bella perché io sono cresciuto nelle Filippine e poi sono arrivato qui in Italia e comunque non pensavo che si faceva pure qui tipo le cose che facevo nelle Filippine quindi dopo che ho scoperto che si facevano queste cose qua in Italia pure cioè è stato molto bello è come se stai vivendo comunque nelle Filippine mentre stai in Italia tipo come ho detto prima gli eventi tra noi i Filippini tipo concorsi di bellezza o torneo di sport basket pallavolo o altre cose soprattutto quando c'è il giorno dell'indipendenza che è il lo sapevo no non lo so più adesso 12 giugno 12 giugno che ci rotturiamo sempre in un posto tutti insieme tutti i Filippini è molto bello questa cosa e niente per me è molto bella questa cosa no no penso che sia anche il fatto della lingua ho notato il fatto di mantenere tantissimo la lingua cioè parlate solo in Filippini Tagalog 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 giusto? sì però in realtà allora io non so se è vero nel senso l'ho sentito dire che in realtà Tagalog è come se fosse dialetto dialetto ok quindi la lingua è filippino mentre il Tagalog sarebbe un dialetto di una parte delle Filippine perché ci sono altre cose tipo Bisaya Il Locano Capampangan tipo questi questi sarebbero tipo come se sarebbero dialetti qua in Italia ma è tipo il Tagalog e poi ci sono questi questi altri che avete elencato che io non saprei ripetere scusatemi sì 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 allora Bisaya Bisaya Il Locano già stai usando Il Locano Capampangan sì vabbè ciao Capampangan Capampangan no ci avete delle consonanti che io non so dire esatto quella roba lì quella NG strana eh non lo so cioè sì ce l'abbiamo poi cioè avendo appunto amici italiani sappiamo che quella NG quando è è proprio difficile eh sì parecchio sì sì NG 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 NAN NAN se no questa no come si fa INGAT 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 eccolo è quello è però non è così semplice come ve lo fate sembrare voi è un po' più difficile di come fate voi INGAT INGAT no perché mi viene da dire la G però in realtà non dovrei pronunciare la G in realtà vabbè per la prossima lezione di Filippino poi un'altra volta o la DOBO Madonna non dovevi citare la DOBO comunque vorrei collegarmi alla domanda perché in realtà quella domanda sulla comunità filippina l'ho fatta anche in funzione di quest'altra che volevo fare e cioè da anni da tantissimi anni ormai ed è una cosa che non si può più negare perché è così oggettivamente i ballerini i filippini hanno influenzato la danza a livello italiano e soprattutto a livello anche mondiale e io penso che questa cosa sia incredibile cioè non venga dato abbastanza spazio secondo me questa cosa cioè sia in Italia con tantissimi ballerini inclusi anche voi due ma potremmo citarne altri adesso proveremo a fare anche qualche nome perché è giusto anche citarli magari ma qualcuno ce lo dimentichiamo ci perdonerà però insomma è anche giusto ma anche a livello mondiale mondiale soprattutto su quello che viene considerato coreografico all'epoca veniva chiamato LA style in qualche modo poi in California questo termine non piaceva tantissimo perché era un termine che usavamo noi in Europa però è giusto per identificare più o meno il genere i coreografi e i ballerini i ballerini filippini hanno fatto la differenza ma tanta o tanto hanno fatto la differenza io per anni ho lavorato con ballerini filippini e anche in Italia questa cosa è cresciuta tantissimo e secondo me va in qualche modo data o abbastanza importanza a questa cosa quindi volevo sapere anche secondo voi che cosa ne pensavate di questa cosa se in qualche modo vi sentite orgogliosi credo che dovreste esserlo di far parte di questa comunità e se siete d'accordo anche con quello che vi ho detto insomma del fatto che i ballerini filippini hanno cambiato in grossa misura il mondo della danza sia in Italia ma anche a livello internazionale Jeff va bene Jeff sempre inizia vado vado come vuoi no allora orgogliosi sì nel senso perché appunto soprattutto negli anni quando stiamo ancora cominciando almeno ti parlo di me e di Jeff che abbiamo cominciato diciamo insieme appunto c'erano già dei nomi che hanno cioè filippini che hanno rivoluzionato appunto la danza chiamandolo LA Style o come è il nome non so qual è il nome però appunto qua in Europa lo chiamavamo così beh volendo fare un nome per tutti a livello internazionale cioè se io dico Sean Evaristo cioè praticamente è quello che ha creato il movement lifestyle che anche adesso l'ha riaperto per fortuna io sono super contento e ha portato avanti un movimento incredibile veramente incredibile cioè lui è uno su tutti ma veramente potremmo fare centinaia di nomi e questa roba è è allucinante secondo me nessuno dà abbastanza peso a questa cosa sono tutti i ballerini filippini tutti no allora mi sono perso hai detto troppe cose stiamo facendo stiamo diventando troppo seri si è perso male si infatti mi sono perso un po' troppo in là e allora Sean Evaristo sì allora appunto credo che almeno non dico tutti i ballerini qua in Italia perché almeno noi diciamo dell'età nostra anche un po' più quelle un po' più grandi noi Sean Evaristo lo conosciamo sappiamo che cosa ha fatto e tutto mi dispiace che diciamo quelli un po' più piccolini se gli dici Sean Evaristo o comunque anche se gli parli Jun Chiamato Brian Pospos o anche Lyle Beniga che sono nomi appunto filippini ma mi sa che pure Chioni no? Chioni è filippino non è non so se è metà mi sa che è metà mi sa metà la mamma o un genitore mi sa che è filippino però se non mi sbaglio ok e loro appunto se gli dici questo nome diciamo che ancora perché appunto sanno solo quelli che sono tra virgolette famosi adesso non ti parlo di tutti però ci sono certo certo ci sono diciamo la nuova generazione però in generale no? anche perdonami adesso non ti volevo davvero interrompere a prescindere dal fatto che la nuova generazione magari tanti nomi non li conosce oggettivamente però tutto ciò che viene fatto adesso in qualche modo arriva da lì sì 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 sono loro cioè è una sorta di evoluzione giusto? sì sì di quello che veniva fatto quando quando un po' di anni fa chiamavamo appunto Brian Ian non è filippino Brian June Lyle Sean Evaristo c'è tutta questa gente qui che poi viene riportato quello che facevano loro come una sorta di evoluzione della nuova generazione per me la nuova generazione considero voi considero un Mark Maxino considero un John Eric della Cruz un James Monji tutta questa gente comunque ha preso e lo so perché li ho visti con i miei occhi vi ho visto con i miei occhi studiare per anni con questi qua e poi in qualche modo fare vostro quello che loro vi hanno passato e provare a evolverlo provare a a cambiarlo in qualche modo non lo so per me questo è un è un valore importantissimo sì 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 no ma infatti già noi quando siamo riusciti a studiare diciamo con questi nomi grandi comunque abbastanza grandi e conosciuti nel nostro mondo per noi è stato mi sembra un po' esagerato dire un sogno però in quei tempi sì lo era ma lo era alla fine in quei tempi lo era proprio cioè per noi studiare con questi nomi è sempre stato un wow eh ma non c'era neanche un workshop a settimana come adesso no 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 è quello infatti cioè noi era già tanto se riusciamo a beccarli una volta all'anno quindi quella volta che venivano cioè noi stavamo lì non almeno ti parlo di me non mi veniva quasi mai però provavo sempre a a prendere tutto quello che potevo prendere in quell'un'ora e mezza due ore se superavano un'ora e mezza scusate e trasformarlo appunto piano piano appena avevo già abbastanza bagagli trasformarlo e e trasmetterlo diciamo ai nostri che era il piano certo certo no ovvio ovvio Jeff vuoi aggiungere qualcosa su questo su questo argomento copy paste copy paste dai no no è come dice Allen cioè nei tempi cioè sei d'accordo anche sul fatto che comunque cioè essendo filippino e sapendo che ci sono questi filippini cioè ballini filippini che sono molto forti e che stavamo tempo fa che fino ad ora e cioè sono molto fiero ad essere filippino come loro e spero di arrivare un giorno che mi guarderanno come come guardavamo noi loro certo ma io penso che comunque ovviamente con le dovute proporzioni ma non perché probabilmente ci sia meno bravura la bravura magari è di diverso tipo però con le dovute proporzioni io penso che anche la comunità filippina in Italia ha cambiato in gran in gran parte il modo di danzare coreografico stiamo parlando di urban coreografico stiamo parlando di un settore ovviamente ristretto non stiamo parlando dell'intera danza ci mancherebbe altro però oggettivamente non si può negare che anche la comunità filippina in Italia abbia dato tantissimo e abbia cambiato tantissimo la danza in quello specifico settore ovviamente sia chiaro sì sì io non lo so allora non ti so non sono sicuro di questo non siamo qui a misurare in che parte in quanto viene cambiata la cosa però oggettivamente è stata influenzata allora almeno per me credo tutti noi diciamo i filippini io Mark Dandy cioè noi non ti so dire nel senso se è veramente così allora siamo felici cioè nel senso siamo ci fa piacere che pure noi comunque contiamo diciamo in questo mondo della danza italiana beh mi sembra palese però sì certo capisco che dall'interno certo no ovvio cioè noi proviamo a fare il nostro continuiamo comunque ad essere sia studenti per poi anche insegnanti e poi quello che riusciamo a dare quello che riusciamo a trasmettere cioè è quello che facciamo nel senso non è che noi pensiamo oddio a Roma siamo bravissimi no ma ovvio non era non volevo dire questo no sì era per perché appunto noi non ce ne rendiamo conto per noi noi stiamo facendo quello che ci piace fare il lavoro che vogliamo fare e tutto il resto è è un piacere se succede quello che viene è bene no ma secondo me è anche questo il punto di forza cioè anche questo è un punto di forza fare le cose perché uno le vuole fare perché gli piace farle non perché poi magari ti aspetti hai delle aspettative poi magari uno se le crea pure però intanto ha proprio il piacere puro di fare quella cosa quindi sì assolutamente ok domanda chi sono attualmente quindi in questo momento che è un pochino più difficile forse i maggiori esponenti della comunità filippina nella danza italiana e nel mondo anche se un po' di nomi li abbiamo già fatti però ripeto secondo voi qui sì stiamo parlando di verità oggettive stiamo parlando di gusti personali certo se volete iniziare da largo quindi nel mondo magari faccio iniziare Jeff perché sta parlando un sacco Allen infatti no va bene no vai vai cioè nel mondo non lo so in questo momento sicuramente come diceva Allen c'è meno diciamo sono meno sotto i riflettori molti filippini che prima erano sotto i riflettori ma in questo momento chi pensi che secondo me Sean forse è tornato sì perché ha riaperto movement però di ballerini e coreografi allora ballerini e coreografi oddio ora come ora è più difficile effettivamente ora sì è più difficile perché poi ce ne stanno un botto cioè sono sempre quelli però ora ce ne stanno più tipo local o mondo tipo così e anche io ci sto pensando in realtà non so Allen tu c'hai ti viene in mente io non so se è filippina ma Isabel ha qualcosa di filippina se non mi sbaglio Isabel è metà se non mi sbaglio americana è filippina credo pure io credo pure io che sia non vorrei dire una cavolata Isabel sì Isabel lei si lei da un po' di anni già lei si da un po' quelli nuovi oddio Isidro Isidro sì allora l'oppo l'abbiamo conosciuto quando era Alleydance un po' di anni fa non ricordo sinceramente non ricordo quando poi in realtà ci sono più che persone forse anche gruppi dalle Filippine proprio un gruppo che almeno secondo me ha fatto tanto anche già da prima per far conoscere i filippini so i Filippine All Stars ah mamma mia sì loro aveva ragione infatti poi stavo pensando collegandomi sui nomi che abbiamo detto prima che erano sì sono tutti filippini però dall'America dalle Filippine proprio comunque ci sono dei nomi diciamo conosciuti in tutto il mondo appunto il gruppo Filippine All Stars che ha creato ha iniziato proprio eh ma io mi ricordo i video loro infatti che erano incredibili proprio non so se esistono ancora no non saprei non saprei manco io che non vedo più in realtà senti invece sulla danza italiana qualche nome ripeto molti li abbiamo già fatti se volete anche ripeterli non è un problema ma qualche nome che in questo momento sta influenzando fortemente il mondo della danza in Italia stiamo parlando sempre del settore urban e lo specifico abbiamo Mark Malzino Mark Malzino ha fatto tanto soprattutto questi ultimi anni tanta roba anche se lo conosciamo da tanto però tanta roba Mark sì tanta roba sì Alan tu che pensi? oltre ai nomi sì Mark Malzino John Eric Monji soprattutto che diciamo che quello che si che tra l'altro si differenzia un pochino sì sì quella che si differenzia un po' di più su quello che facciamo tutti noi siamo tutti noi tutti noi famo urban invece quella di Monji già è un po' più contaminata come chiamiamo qua in Italia mazza sì cioè lei è diciamo appunto un po' diversa da quello nostro Monji è smonji anche tra i nomi che abbiamo fatto prima giusto per per citarli tutti anche James in realtà James pure è un pochino più distante dal mondo più urban inteso in senso classico sì 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 un ottimo lavoro ovviamente stiamo parlando sempre di pareri soggettivi ovviamente ognuno può ha il suo punto di vista sì c'è anche qua a Roma ti parlo per adesso di Dandi anche che comunque bravo è quello del nostro gruppo è quello più piccolo il nostro Mazzò come lo chiamiamo che pure lui avendo l'età sua piccolo una volta piccolino una volta infatti stiamo invecchiando pure lui però non possiamo invecchiare solo noi ciao Dandi ciao Dandi e pure lui comunque sicuramente potrà fare ancora tanto perché giustamente ne ha 21 se non mi sbaglio pochi 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 quindi potrà fare tanto e poi c'è anche tipo per esempio Patrick 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 cacchio è vero è vero perché poi effettivamente stando su Roma siamo un po' centrati sulla città però anche nel resto d'Italia c'è tanta roba interessantissima pure a Milano c'è Michael Garzisa bravissimo Giabba Giabba Tangi pure comunque ci sono dei nomi è per quello che insomma vi dicevo che è veramente tanta tanta la comunità filippina in Italia c'è tanta gente veramente brava artisticamente veramente tanto brava quindi non lo so mi faceva piacere mettere il punto su questa cosa perché perché ci tengo comunque se ci fossimo scordare di qualcuno scusate sì scusate se ci siamo mi includo anch'io più che altro perché sono diciamo amici proprio nostri per questo non ci scordiamo poi appunto se ci scordiamo qualche nome scusateci siamo vecchi ci perdono mi lasso allora siamo arrivati all'ultima domanda incredibile ma vero quindi l'ultima domanda che vi faccio è eh sì l'ho detto però a questo punto chiedo prima a Jeff e poi passo ad Allen se avete in qualche modo qualche progetto futuro qualche speranza nei confronti del progetto Hermes cioè come vedete il progetto svilupparsi in futuro qualcosa che vorreste fare magari non lo so qualche idea qualsiasi cosa Allen che vogliamo fare dai no no Jeff vai ma avrete parlato sicuramente di qualche progetto futuro qualcosa guarda si guardano si guardano terrorizzati pensavo fosse una domanda facile questa anzi forse quella più difficile sì quella più difficile perché addirittura sì perché cioè piani proprio futuro futuro non abbiamo proprio cioè niente cioè abbiamo come sempre ogni anno cioè organizzavo solo proprio il fine anno cioè per il saggio certo lo spettacolo sì lo spettacolo poi vabbè per le altre gare che ora siamo un attimo fermi per gli altri eventi e però non state mai con le mani in mano almeno da quello che vedo io sì abbiamo sempre qualche evento da preparare e niente sì come ho detto prima non abbiamo niente proprio per il futuro cioè stiamo andando come va va ok un passo alla volta un passo alla volta sì perché per rimanere in tema danza sì come va va perché ce la vogliamo godere cioè tra qua e là ce la vogliamo godere e basta giusto io sono molto d'accordo con questa cosa just go with the flow vedi madonna è proprio trust the process va bene va bene è stato super veloce infatti io ve l'avevo detto volevo parlare un altro po' che cosa vuoi dire che ne so aspetta aspetta in realtà volevo aggiungere cosa quello di Jeff perché ne pensi nei Hermes ecco vedi però prima adesso adesso ci pensi io ti dico quello che devo dire quello che ha detto Jeff appunto forse una cosa che vorrei aggiungere non è che non non pensiamo al futuro sì lo pensiamo non ne abbiamo mai parlato perché c'è comunque il piano che è stato il piano già dall'inizio è allargare il più possibile dare opportunità ai ballerini diciamo soprattutto per i filippini ragazzi che che non hanno non stanno dentro una scuola che ah perché scusami ma ricordiamo che avete anche il progetto Hermes Project che sono i piccoli degli Hermes sì che non ne abbiamo parlato proprio allora gli Hermes Project appunto come ha detto Andrea diciamo è un è un gruppo non è manco un gruppo è allora è una cosa di due ore dove ci sono ballerini sia quelli che fanno parte degli Hermes che non dove balliamo insieme dove io e Jeff insegniamo coreografie basi o comunque dove facciamo dei compiti per niente per divertirci insieme poi nel caso vedessimo che ne so qualcuno che potrebbe far parte sì che potrebbe far parte che gli interesserebbe di far parte del gruppo Hermes lo proviamo comunque ad inserire nel nostro gruppo ed allenarlo per poi farlo diventare appunto uno degli Hermes un ballerino sì questo è Hermes Project però appunto per il futuro più cioè proviamo ad andare avanti così allargandolo piano piano passo per passo solo qui no no ma guarda io sono cioè il go with the flow è un concetto che trust the process no adesso giuro che sono serio non voglio fare dire cavolate però è un concetto che io approvo tantissimo cioè sicuramente godersi il tragitto godersi il viaggio è sempre un buon modo di fare le cose no pressure vero vero madonna siamo proprio international in questa puntata comunque no pressure vabbè va tocca a te io rimasto che devo fare? benvenuti small talks con Alan e Jeff salve buonasera grazie Andrea allora per questa sera per questa sera abbiamo un ospite nuovo sigla grazie a tutti